L'estate dello sport videoludico inizia con Mario Strikers Battle League Football perché non c'è niente di meglio del calcio a 5 con gli oggetti di un Mario Kart con la capacità di essere accessibile e divertente per chiunque ma, come capita spesso per i titoli competitivi di Nintendo, con quel grado di profondità tale da soddisfare anche i giocatori più competitivi. Ma come per i recenti titoli sportivi apparsi su Switch ci sono delle necessità che questo genere di videogiochi devono soddisfare e che nelle passate generazioni videoludiche non erano così importanti, contenuti da sbloccare, magari aggiornati nel tempo, attrattiva per i giocatori in singolo e modalità online. Partiamo da quella che è inevitabilmente la criticità più grande di Mario Strikers, il roster dei personaggi. Dieci calciatori sono pochi, troppo pochi per non rappresentare un problema. Diversamente dagli ultimi capitoli poi, in Battle League Football si possono scegliere quattro personaggi primari, invece di un capitano accompagnato dai minion come in passato. Questo significa che le due squadre in campo avranno quasi sicuramente alcuni giocatori identici nella maggior parte dei casi. Un problema ancora più pressante perché gli ipertiri, le mosse spettacolari di ogni personaggio, hanno un effetto tangibile stavolta. Un roster così illimitato comporta che molte partite di Mario Strikers risulteranno molto simili tra loro perché spesso si ripeteranno alcuni di questi effetti. Mancano personaggi piacevoli che potevano essere inseriti perché ci sono tanti abitanti del regno dei funghi che potevano dire la loro all'interno del campo da gioco. In videogiochi simili come l'ultimo Mario Golf, Nintendo ha pubblicato personaggi aggiuntivi in via gratuita dopo il lancio. Speriamo che anche Mario Strikers possa avere lo stesso trattamento. Ma una volta mandato giù questo amaro boccone, non si può non rimanere colpiti da quello che Mario Strikers Battle League Football mette in mostra. Le animazioni di gioco, e degli ipertiri in particolare, sono spettacolari a dir poco. Con un effetto che renderizza in tempo reale i personaggi, trasformandoli in una versione più fumettosa dai tratti molto decisi durante l'esecuzione, i cacciatori del regno dei funghi danno il meglio di sé. Esplosioni, fulmini, colonne di ghiaccio, tornado, fiammate e terremoti rendono Mario Strikers uno spettacolo ad ogni azione. A tutto questo si aggiunge anche l'estetica degli stadi, l'amorevole casino generato dall'uso degli oggetti, così come la qualità degli effetti visivi di tutto questo. I giocatori di Mario Strikers Battle League Football sono anche più belligeranti del solito perché possono essere equipaggiati con del vestiario che ne migliora le statistiche. Scarpini, corpetto, elmetto e guanti che possono andare a migliorare tiro, tecnica, velocità, forza e capacità di passaggio. Esteticamente sono tutti oggetti ben fatti, che creano situazioni divertenti come vedere un piccolo Toad completamente corrazzato, oppure esaltano la grinta di Peach donandole un'armatura che la rende una giocatrice con cui non bisogna discutere. L'idea di raffinare il gameplay con questa funzione, che può essere disabilitata ad ogni partita ovviamente, è interessante, ma gli equipaggiamenti sono troppo pochi da sbloccare, pad alla mano è difficile capire con esattezza quanto influiscano realmente nel gioco. Forse sul lungo periodo, una volta che la community troverà combinazioni di equipaggiamenti, personaggi e squadre migliori di altre, potrà cambiare qualcosa, per ora. Però rimane un'idea senz'altro buona, ma che non influisce così tanto poi sul gameplay. Palla al piede, infine Mario Strikers Battle League Football ha fatto un netto passo in avanti rispetto ai predecessori. Il gioco si può approcciare in maniera similare ad un titolo come Super Smash Bros Ultimate, con una differenza di impegno richiesto, a seconda del tipo di gioco che si vuole fare. By the Strikers si può giocare tranquillamente tirando pallonate, facendo tackles selvaggi, buttando oggetti a profusione addosso agli avversari ed imprecando contro i propri amici a fianco sul divano. Oppure si possono imparare i trucchetti del mestiere. Per prima cosa gli ipertiri ora sono per tutta la squadra. In maniera similare al citato Smash bisogna raccogliere la sfera Strike per poter attivare la mossa speciale. Un aspetto strategico che consente, per esempio giocando in squadra con altri umani, di poter fare mosse coordinate tra chi raccoglie la sfera e chi magari si inizia già a liberare per tentare il tiro. Caricare l'ipertiro inoltre non significa andare a colpo sicuro. Il tempo rallenta ma non si ferma, quindi con dei tackle ben piazzati oppure oggetti lanciati con precisione si può comunque bloccare un giocatore in procinto di tirare. Inoltre ogni mossa, tra passaggi, contrasti, dribbling e tiri, ha un tempismo ideale per il quale ci si può esibire nella versione perfetta di questi. Dribblare al momento giusto permette per esempio di avere un piccolo sprint, mentre un tiro perfetto sarà più difficile da parare e stordirà maggiormente il portiere. Grazie a queste funzionalità, a questi bilanciamenti, Mario Strikers Battle League Football riesce ad essere appagante per tutti e per questo lo riteniamo molto più che promosso. Certo, il peso del roster limitato di personaggi e delle poche attività single player extra si fa sentire, ma con un gameplay così solido ed esplosivo il nuovo Mario Strikers rappresenta decisamente un passo in avanti per la serie. Se Nintendo lo supporterà adeguatamente nel tempo, un gameplay così stratificato lo rende possibile anche per un grande exploit futuro. Per ora una partita tira l'altra ed è difficile stancarsi realmente di giocare, soprattutto con un gruppo di amici in locale, la migliore espressione possibile per un videogioco del genere.